Involviamo 10 luoghi e 3, in 13 di 9, 19, 64, in 3 d'Italia, delle ore 14 e 38, proveniente da Palermo Centrale e diretto a Milano Centrale, arriverà a Binaglio 2, invece che a Binaglio 1. Involviamo 10 luoghi e 3, in 13 di 9, 19, 64, in 3 d'Italia, delle ore 14 e 38, proveniente da Palermo Centrale e diretto a Milano Centrale, arriverà a Binaglio 2, attenzione, allontanarsi dalla linea bianca. Involviamo 10 luoghi e 3, in 13 di 9. Informiamo i viaggiatori che duranno. Annuncio ritardo, il treno in 13 di 9, 19, 65, in 3 d'Italia, proveniente da Milano Centrale e diretto a Palermo Centrale, delle ore 14 e 44, arriverà a Binaglio 2, con un ritardo previsto di 165 minuti, per accertamenti dell'autorità iniziale a seguito del sentimento di una persona. Inolviamo 10 luoghi e 3, in 13 di 9. Inolviamo 10 in 3, in ogni 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 battaka. Inolviamo 10 luoghi e 3, inolviamo 50. Grazie a tutti. Grazie a tutti.